Il premio dell'Unione d'Argento 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 Il rovescio della medaglia Che non è solo la parte tecnica o calcistica Di quello che già conoscevo Volevo vedere realmente dietro alla scrivania Cosa realmente mi poteva dare uno studio Mi poteva, o perlomeno ho approfondito Delle materie che noi calciatori purtroppo trascuriamo E mi rendo conto che da dirigente Diciamo ho investito in un centro sportivo E da lì gestendo tutto da me Capite bene che volevo anche cercare di far tornare i numeri E da questo ho fatto esperienza E mi sento di dire che mi piacerebbe lavorare Nel mondo del calcio come dirigente sportivo Quali sono le differenze che hai notato maggiormente Tra quando eri calciatore e l'Argento C'è qualche magari rimpianto che dai al Vittorio Tosto calciatore? No, sinceramente no L'unico rimpianto che realmente mi do Perché a livello calcistico in tutte le città dove sono stato E tutte le magliette che ho indossato Ho cercato di rispettare la storia della città Cercando di uscire dal campo sempre, 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 sempre Con la maglietta strizzata di sudore Mi sono posto sempre questi biottivi Indipendentemente dalle critiche o dagli applausi Ho cercato sempre, sempre di rispettare la maglia Perché noi si indossa la maglia e siamo di passaggio Ma la maglia, la storia di una città rimane Quindi ho cercato sempre di scendere in campo rispettando questi concetti Io mi rimpianco solo una cosa Purtroppo non ho portato a termine gli studi E' un consiglio che do ai giovani Lo studio, se ci si fa, non bisognerebbe trascurarlo E su questo ultimo aspetto è molto importante Per quanto riguardava l'onore della maglia Noi siamo stati da poco ad Ascoli Dove tu hai giocato Ed è anche ad Ascoli uno dei nomi che hanno ricordato con maggior affetto E' il tuo A Salerno campeggia da anni Uno striscione intitolato a te Questa è una dimostrazione di quanto hai detto Sì, poi automaticamente il tifoso ha una sua passione Ha una sua storia E il tifoso va rispettato Perché gli stati senza tifosi è un declassamento importante del calcio E il tifoso, secondo me, va rispettato come? Rispettando la maglia Senti, rimaniamo sulla tua scuola calcio Fammi la chiamare così Tu hai organizzato dei tornei ultimamente E guarda caso, ironia della sorte L'Empoli è sempre uscito vincitore Io sono stato testimonial dell'arte dello sport Abbiamo organizzato il Toscana Football Cup Categorie allievi E due manifestazioni categorie primavera Naturalmente con le mie conoscenze Con la mia, diciamo, forse anche capacità Abbiamo coinvolte società Tipo Genoa in primis Ma dal Genoa alla Sampdoria Napoli, Udinese, Brescia, Chievo Insomma, abbiamo coinvolto un po' tutte E quest'anno la manifestazione L'abbiamo portato principalmente su Lucca Al Portelisa Perché volevo anche che i nostri dirigenti La nuova società dell'Effici Lucca Capisse certi concetti Chi lo sa? Naturalmente in futuro Partecipando l'Empoli Con Massimiliano Cappellini Che naturalmente è iscritto alla squadra L'Empoli ha vinto tutte e due le ultime edizioni E i migliori giocatori premiati Capocannoniere Sono stati sempre due giocatori dell'Empoli È una coincidenza che naturalmente a me fa piacere Però è realtà Senti, nell'ultimo anno in particolare Che tu vestissi la maglia azzurra Molti tuoi compagni ti identificavano già Come un futuro allenatore Ci pensi a questo Vittorio? Guarda, io a oggi Ho le idee abbastanza chiare Io non credo di fare l'allenatore Sinceramente non ho neanche preso il patentiro di terza Però ho preso una laurea in diritto sportivo Ho una qualifica in management dello sport Gestisco società che lavorano nel settore calcio Mi piacerebbe abbinare La mia forse anche immagine positiva Non lo so La mia esperienza tecnica Che già conosco da 20 anni di carriera Abbinarla naturalmente alla parte dirigenziale Alle conoscenze proprio di gestione amministrative del calcio Che purtroppo nessuno se ne occupa O perlomeno nessuno vuole approfondire Qual è Vittorio la prima cosa O la cosa più importante Che dice ai ragazzini Che se vogliono avvicinare a te e al mondo del calcio in generale? È semplice Bisogna trasmettergli la passione Di questo sport La passione Se noi trasmettiamo attraverso l'aspetto emotivo L'aspetto psicologico Che cos'è la passione Un ragazzo non smetterà mai di giocare a pallone Senti per chiudere non posso non chiederti qualcosa Sull'Empoli di quest'anno Una squadra partita Per andare a fare i play-off Che oggi si trova a 180 minuti dalla fine A lottare invece per evitare Provare ad evitare un play-out L'Empoli ha dei valori Ha dei valori Nel momento difficile della stagione Quindi la sconvitta interna col Modena Poteva essere una grossissima mazzata E in un momento cruciale del campionato I senatori dell'Empoli Che io non perdo una partita Naturalmente osservo tutto il calcio In primis naturalmente l'Empoli e la Serie B I senatori dell'Empoli sono usciti fuori E io sono convinto che porteranno a termine Questo campionato nel migliore dei modi Facendo i massimi scongiuri Ma sono convinto che l'Empoli Questi 180 minuti Riuscirà a ottenere il risultato Che tutti quanti noi ci voriamo Grazie a tutti